Ciao! In questo video diamo un'occhiata alle ultime novità per 4 distro Linux di cui in passato abbiamo già discusso in modo più approfondito. Archcraft, Bluestar, KDE Neon e Solus. Così come è fatto in precedenti occasioni, anche stavolta andremo a riprendere questi progetti poiché ognuno ha visto cambiamenti rilevanti nel corso degli ultimi mesi e dunque ha sicuramente senso capirli più da vicino per analizzare cosa è variato dall'ultima volta in cui ne avevamo parlato. Al solito il video è suddiviso in capitoli per facilitare la fruizione ed è ordinato alfabeticamente. Si parte con Archcraft, distro indipendente di cui in realtà non avevamo approfondito in modo dettagliato quanto più l'avevamo brevemente vista nella panoramica sulle derivate di arch più importanti. Archcraft, infatti, è costruita su arch ma si differenzia dalla gran parte delle altre arch-based poiché si focalizza esclusivamente sull'uso di gestori di finestre anziché i classici ambienti desktop ed applicazioni tendenzialmente più leggere in modo da essere super veloce e minimale. In più, e questa è la vera chicca, Archcraft offre impostazioni preconfigurate per tutti i gestori di finestre disponibili in modo che siano fin da subito ottimizzati e molto piacevoli alla vista. I window manager, si sa, di solito sono estremamente configurabili e personalizzabili, ma per come arrivano out of the box sono spesso anche un po' tra virgolette bruttini, e o comunque richiedono molto impegno all'utente affinché egli ne modifichi l'aspetto e la configurazione secondo i propri gusti e necessità. Archcraft evita tutto quel lavoro aggiuntivo portando sulla base Arch senza modifiche di sorta rispetto alla distro madre, temi ed impostazioni di gran gusto. E dunque Archcraft risulta molto minimale e leggera tanto che può funzionare anche con meno di 500MB di RAM, propone colori flat e pastello, con grande coerenza tra tutti gli elementi dell'interfaccia utente ed i temi, ed ovviamente una base sempre aggiornatissima grazie ai rep ufficiali di Arch nonché al supporto già integrato con l'Aur. Dal sito ufficiale del progetto è possibile scaricare gratuitamente la isolive che consente di copiare sul proprio PC il sistema con due window manager preconfigurati, OpenBox e BSPWM. Il primo è uno stagging window manager, mentre il secondo è un tiling window manager, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Aditya Shagia, però, lo sviluppatore di Archcraft accetta anche donazioni in cambio dell'accesso a svariate altre varianti della sua distro, definite premium. Tali versioni godono di diverse cosine esclusive, tra configurazioni, temi, eccetera, e soprattutto consentono di avere a disposizione oltre ad OpenBox e BSPWM con ulteriori impostazioni personalizzate aggiuntive, anche i3WM, Qtile e Xmonad, nonché tutti i compositor Wayland già pronti all'uso come Sway, Wayfire, River, Hyperland e NewM. Volendo, è anche possibile contattare Attya e farsi costruire ISO ad hoc su misura con tutto quello che si desidera, ovviamente dietro compenso. Insomma, per gli amanti dei gestori di finestre, Archcraft è sicuramente una fantastica distribuzione, anche perché appunto non diverge da Arch e quindi il sistema sottostante rimane solido e ben rodato, mentre si occupa soltanto di offrire una veste grafica bella e ben organizzata. Ovviamente l'utente può anche decidere di usare il sistema solo come base e come installer facilitato per Arch, e poi modificarlo per avvicinarlo ancora di più ai propri gusti. Che cosa è cambiato in Archcraft rispetto all'ultima volta che lo abbiamo visto? Era inizio agosto 2023, quindi sono trascorsi più di 12 mesi, ma al di là di qualche utility aggiunta qui e lì come una guy per gestire il firewall ed altri tool per la gestione delle customizzazioni specifiche di Archcraft, la vera novità è stata la rimozione delle ISO con precaricati XFCE e LXDE. In sostanza, Archcraft è ormai, a tutti gli effetti, una distro esclusivamente orientata ai Window Manager, senza più alcun ambiente desktop preconfigurato. Ovviamente tutti i DE presenti sui repo di ArchLinux, ad esempio Gnome, KDE, XFCE, Mate, Bagi, Cinnamon e via discorrendo, possono essere installati manualmente e configurati a piacere dall'utente, però non avranno le customizzazioni esclusive ideate da Aditya. Tra cui, in particolare proprio l'ultimo update di questo ottobre, ha portato nuovi temi per cursore, icone ed in generale OpenBox, oltre ai font nerd. Sono stati aggiornati anche i temi di Polybar, Rofi, etc. Ci sono 5 nuovi stili per OpenBox con 4 nuovi set di icone per il suo menu, un nuovo tema per ZSH e tanto altro ancora. Insomma, Archcraft è un'ottima rivisitazione di ArchLinux, non ne snatura la base, anzi la abbraccia a pieno senza modificarne il funzionamento, e si concentra esclusivamente nell'offrire ambienti altamente personalizzati pensati con criterio. Cosa che, invece, purtroppo, non si può dire della seconda distro di cui parliamo oggi, Bluestar. Il progetto Bluestar è una tra le tante Arch-based con, al contrario, l'ambiente Desktop KD e Plasma precaricato, altamente customizzato, più svariati programmi già integrati e pronti all'uso, principalmente rivolti agli sviluppatori. Bluestar viene offerta in 3 varianti, la Desktop Base, la Desk Pro e quella Developer. L'idea è offrire un OS solido, con una ampia gamma di funzionalità già pronta all'uso, senza sacrificare l'estetica, anche se su questo punto ci sarebbe molto di cui discutere. Ogni variante di Bluestar è pensata per soddisfare le esigenze di diversi utenti, ma è proprio una delle differenze rispetto al famoso video focus sulle derivate di Arch dell'estate scorsa di cui parlavamo anche prima, è che attualmente sembrerebbe che soltanto la variante Desktop Base sia installabile senza intoppi. Le altre, Desk Pro e Developer, hanno invece problemi di dipendenza ed altro che ne impedisce la corretta copia sul disco. In ogni caso, Bluestar offre repository aggiuntivi con priorità maggiore rispetto a quelli ufficiali di Arch tramite cui vengono offerti software, strumenti ed applicazioni in più oltre a quanto disponibili sui repo upstream, un approccio non particolarmente entusiasmante poiché potenzialmente potrebbe portare col tempo ad incastri strani o problemi di varia natura con dipendenze e versioni software. Comunque, parlando di problemi, quelli che invece sono sicuramente ben evidenti e che sono rimasti invariati da un anno a questa parte riguardano tutti la customizzazione di KDE Plasma. Contrasti, colori ed in generale i temi custom proposti in diverse aree del sistema rendono impossibile leggere le informazioni a video ed in generale hanno uno stile di dubbio gusto. In sostanza, alla prima occasione utile è meglio passare ad usare i temi e le impostazioni di default di KDE Plasma. Una volta fatto ciò, usare Bluestar non è molto diverso da usare Arch Linux liscia se non appunto il gran quantitativo di app precaricate e qualche customizzazione qui e lì modifiche che potrebbero anche tornare utili a qualcuno. Certo, c'è comunque qualcosa da rivedere in alcuni punti e che probabilmente è finita per sbaglio nella ISO finale. Per questi motivi, tra tutte le derivate più note di Arch, Bluestar rimane quella meno interessante. Può sicuramente semplificare il setup di Arch Linux stessa per chi non ha voglia di eseguire quello manuale passo passo o tramite Arch Install, e allo stesso tempo cerca tutta la suite di app per sviluppo qui già disponibili, ma a parte ciò, forse chi desidera avere KDE Plasma su Arch, già ben configurato e con personalizzazioni più riuscite, è meglio virare su altri progetti come Endeavor OS, CacheOS o Garuda KDE Lite. Ma, parlando di KDE, non si può non tornare a seguirne le ultime novità grazie a Neon. KDE Neon è la distribuzione portata avanti dalla comunità KDE stessa ed è usata come showcase delle ultimissime novità dal progetto. In particolare, Neon viene offerta in quattro varianti, da quella più, tra virgolette, pronta all'uso per l'utente generico, a quelle di testing o contenenti tutto il necessario per contribuire attivamente allo sviluppo dell'ecosistema KDE stesso. Neon, lo abbiamo visto in modo approfondito poco meno di un anno fa, è una distro dalla natura particolare. La base è Ubuntu LTS, quindi stabile nel tempo, ma su di essa vengono poi inseriti tutti quei pacchetti più aggiornati rispetto a quelli presenti nel repo di Canonical, necessari al corretto funzionamento e compilazione delle ultimissime versioni di Plasma e delle altre app KDE. A differenza di altri progetti come Taxido OS o PopOS, dunque anch'essi basati su Ubuntu LTS, Kernel, Driver, Stackmesa e co, su Neon rimangono gli stessi della distro upstream, cioè Ubuntu appunto. Quello che varia sono librerie ed app KDE, ma ciò significa che potenzialmente Neon non è mai 100% compatibile con Ubuntu LTS e, soprattutto, che il sistema non è necessariamente affidabile nell'uso quotidiano, o quantomeno non lo è sempre, in base allo stato di stabilità delle nuove applicazioni e librerie integrate. In passato, infatti, e lo abbiamo visto nel video aggiornamento di maggio, è capitato che l'upgrade delle sole componenti KDE abbia causato ingenti problemi agli utenti. Il team che segue Neon è decisamente piccolo e non è sempre in grado di garantire il perfetto funzionamento di tutto. In ogni caso, Neon rimane senza ombra di dubbio il modo migliore per testare gli ultimi sviluppi di Plasma ed applicazioni annesse, e infatti la recente Neon 6.2 di ottobre contiene Plasma 6.2.2 più tutti gli altri tool superaggiornati. Ma non solo! La vera novità rispetto all'ultimo approfondimento che abbiamo fatto a fine maggio è il passaggio della base da Ubuntu 22.04 ad Ubuntu 24.04 LTS. Era un upgrade necessario, su cui si stava lavorando da tempo, indispensabile per poter consentire la corretta continuazione dei lavori sulle app KDE. Alcune infatti non riuscivano più a compilare sulla vecchia base, mentre altre caratteristiche della precedente LTS di Ubuntu non consentivano il corretto funzionamento di determinate componenti recenti di KDE. Insomma, il passaggio alla nuova LTS era dovuto e, dopo mesi di lavoro, è stato finalmente completato. Come ribadito più volte, Neon rappresenta la corsia preferenziale per dare un'occhiata allo stato dell'arte di tutto ciò che ruota attorno al progetto KDE, da Plasma alle varie app a corredo. Ubuntu LTS dà una qualche garanzia di stabilità rispetto ad usare ad esempio una base Bleeding Edge, tra l'altro Neon supporta anche gli Snap e complessivamente non fa modifica al funzionamento standard di Ubuntu, con però l'importante questione delle librerie custom più aggiornate che potenzialmente possono causare problemi o incompatibilità. Come ben evidenziato sul sito ufficiale del progetto, Neon rimane pensata esclusivamente per chi è appassionato di KDE e vuole le ultime novità non appena disponibili, senza ritardi, patch o modifiche di varia natura. Altresì, Neon non è la scelta giusta per chi cerca un sistema più rodato. In tal caso, per chi vuole rimanere su base Ubuntu, ci sono Kubuntu e Taxido OS, la prima come flavor ufficiale di Ubuntu LTS, mentre la seconda portata avanti dall'azienda tedesca Taxido Computers con, rispetto alla base LTS dell'OS di Canonical, aggiornamenti frequenti per kernel, driver, etc., e pacchetti KDE più aggiornati ma comunque non bleeding edge quanto Neon. Rimanendo in tema di chi cerca un sistema che non varia in maniera compulsiva nel tempo, Solus ha da poco rilasciato una nuova LiveViso aggiornata. Solus è un sistema operativo progettato esclusivamente per l'home computing con un'esperienza d'uso coesa. È una distro indipendente, non si basa su nulla, segue un modello di rilasci rolling e quindi non richiede upgrade a blocchi ogni tot tempo ma avanza costantemente, anche se lo fa a cadenza rallentata. L'OS arriva in 4 varianti, quella principale sfrutta Budgie che tra l'altro fino a non molto tempo fa era sviluppato proprio dallo stesso team che porta avanti Solus, c'è poi la variante con GNOME, non manca l'edizione KDE ed infine c'è quella con XFCE per i dispositivi di fascia bassa e che, da qualche mese, sostituisce la variante MATE ormai dismessa. Ognuna di queste edizioni è personalizzata in modo da offrire ambienti desktop coesi, curati e con set di applicazioni precaricate per l'uso generico e domestico del PC. L'ultima volta che abbiamo parlato di Solus era ad inizio anno, quando usciva la live ISO 4.5 e da allora il sistema ha continuato ad aggiornarsi con la sua classica cadenza slow rolling ottimale per avere costantemente nuove features ma anche evitare di sovrastare l'utente con continui update. Come detto, tutto in Solus è pensato per facilitare la vita dell'utilizzatore ed infatti questa distro rimane un'ottima scelta per i meno esperti o per chi non ha particolare interesse a stare dietro agli update del sistema pur continuando a riceverne su base regolare. In ogni caso, negli ultimi mesi ci sono state un paio di grandi novità. La prima è che sta continuando l'operazione user merge, cioè la trasformazione dell'organizzazione del file system in modo che il vecchio modo di dividere i file delle app e librerie tra slash bin e slash user slash bin, slash sbin e slash user slash sbin, slash lib e slash user slash lib e slash lib64 e slash user slash lib64 diventi unificato riportando tutte le directory in slash user. Ad esempio slash user slash bin e slash user slash lib64 con poi collegamenti simbolici di compatibilità che puntano alle directory in slash user. Questa strada, inizialmente proposta da Fedora, ha diversi vantaggi poiché 1 migliora la compatibilità con altri OS Unix e Linux-based e gli script scritti per un'altra distribuzione non necessitano di modifiche per via dei diversi percorsi dei file, rendendoli più portabili. 2 c'è maggiore compatibilità con i sistemi di compilazione GNU ed il porting del software su Linux diventa più semplice, con chiaramente migliore compatibilità con lo sviluppo upstream. 3 infine si riduce la complessità del file system. Sul blog ufficiale di Solus ci sono degli approfondimenti sulla questione a cui si rimanda per chi è interessato all'argomento, sta di fatto che Solus si sta pian pianino adoperando per completare il passaggio a questa nuova struttura. Passaggio che è anche necessario in vista della transizione dall'attuale gestore di pacchetti EO Package ai tool di SerpentOS, tra cui MOSS e Boulder, che danno per scontata la presenza della nuova struttura del file system. La seconda grande novità di Solus è il fatto che, a partire dalle ultime versioni del kernel utilizzato, non sono più presenti le patch app armor necessarie per il confinamento degli snap. Gli snap packages, che fino ad ora erano sempre stati supportati in Solus, dal 2025 non saranno più apertamente disponibili nell'OS ed il team Solus consiglia di passare alle corrispondenti app Flatpak, tanto che è stato persino creato un pacchetto chiamato unsnap che consente proprio di migrare automaticamente le varie applicazioni. Ora, non è che gli snap non funzionino più, ma senza le patch richieste non possono essere correttamente confinati e dunque si perde anche un pochino il senso di utilizzarli. La scelta di eliminare le suddette patch è stata presa perché applicare ogni volta tutte quelle necessarie richiedeva troppi sforzi, oltre al fatto che le medesime sono disponibili solo per i kernel su cui Canonical le lavora, e questo causava il rallentamento in Solus nella distribuzione dei kernel più recenti. Restando in tema Flatpak, Solus ha da sempre avuto un proprio app store per l'installazione ed aggiornamento dei pacchetti, che però non consente di gestire direttamente i Flatpak. Le edizioni GNOME e KDA di Solus offrono anche i rispettivi store dedicati, che hanno appunto il supporto integrato per i Flatpak e dunque per chi utilizza tale variante di Solus è consigliato sfruttare tali strumenti anziché l'app store tradizionale. Insomma, Solus continua sulla sua strada di migrazione verso la struttura che c'è alla base di SerpentOS, con strumenti più moderni ed interessanti, rimane comunque rivolta ad un pubblico domestico con una cura elevata di ogni particolare. Dopo i problemi avuti negli anni passati, Solus sembra essere tornato in corsia e sarà sicuramente interessante capire come evolverà nel corso dei prossimi anni. Tu che ne pensi? Preferisci utilizzare distro estremamente curate visivamente tipo Archcraft o anche Solus, oppure prediligi soluzioni più vicine all'appstream con però in cambio sempre le ultime novità disponibili, tipo Neon? Ti aspetto nei commenti. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video su altre distribuzioni. Se questo ti è piaciuto iscriviti al canale e soprattutto fammi sapere nei commenti se preferisci le distro indipendenti e o quelle più in alto nella catena, oppure non puoi fare a meno delle derivate perché arrivano già con una direzione guida. Se hai richieste riguardo altri OS Linux based per cui vorresti vedere un video dedicato, non esitare a farmelo sapere con un commento qui sotto. È tutto per questa puntata. A presto!